Musica Potente appara ragazzi Quark's Lodge, Megalato, Giussano Dansole Sono qui a presentare i prossimi nuovi pack opening E ragazzi sono straesaltato Perché ho visto solo adesso Che sono usciti i pacchetti Da 100.000 crediti E quindi oh mio dio Andremo sicuramente ad aprire Io pensavo che ci fossero quali da 50 Quindi magari dicevo un 6 pacchetti Usciva un bel pack opening anche abbastanza lungo E ora ho visto che sono solo 2 da 100 Ma fa niente Quindi dettagli in poche parole Comunque prima di iniziare Volevo ricordare di passare da Fima Con il test di interessato a comprare anche di FIFA E poi ovviamente adesso non so quando caricherò questo video Anche se credo di farlo domani mattina Non sarò ancora in vacanza Ma preparatemi che dei prossimi video Appunto saranno dei video che io ho fatto in precedenza Quindi non vi potrò ringraziare O meglio non potrò stare aggiornato Su appunto i mi piace e i commenti che voi farete Ma io vado sulla fiducia So già che qualcuno di voi Dato che anche lui va sulla fiducia Ha già commentato e lasciato un bel mi piace Quindi tu che l'hai fatto sei stra-magico Se non l'hai ancora fatto Devi iniziare ad abituarti a farlo Comunque prima di iniziare Volevo ricordare come sempre di passare da Fima Se non siete interessati a comprare anche di FIFA O la... ok Fatemi deglutire E basta ragazzi Non ho più niente da dire Magari dato che domani appunto Domani pomeriggio Neanche domani sera Ma magari domani sera sul tardi Sarò ancora a casa Se volete Oppure anche prima di uscire Adesso devo vedere a che ora far uscire questo video Se volete che appunto faccio un altro video Dove apro altri due pacchetti da 100.000 crediti Fatemelo sapere E come sempre lasciate un bel mi piace Comunque Io direi di partire Andiamo a schiacciare su sì Per il primo pacchetto Chiudiamo solo gli occhi E abbassiamo lo sguardo Dai eh Siamo carichi? Io non guarderò Mi basta trovare un verde Non ne ho ancora mai trovato uno Altre alzo lo sguardo Uno Due Tre Oddio Oddio Due in forma in un pacchetto Mio Dio È la prima volta Prima volta che mi succede Due in forma in un pacchetto ragazzi Poi non so se sono i Man of the Match Che hanno giocato bene Ma non sono usciti i Man of the Match Ma fa niente Due in forma in un pacchetto Non ci credo Più star Giovan Stubb Gli altri poi fanno schifo Anche se credo che costino 10.000 all'uno Però va bene È l'emozione Giusto È l'emozione No aspetta però Lui ha giocato benissimo in ogni partita Come fa a non essere il Man of the Match Ragazzi per me questo giocatore è veramente una besta Rodriguez è fortissimo Io andrei ad adesso Ad adesso Mi sta finendo già la voce Oddio Ad aprire l'altro pacchetto Adesso cosa dovete fare? Dovete lasciare un bel mi piace Non avete tempo per commentare Ma battete due volte le mani E chiudete con me gli occhi ragazzi Quindi Lo sguardo Dai oh no Però due Va bene Due in forma in un pacchetto Non ci si lamenta Ma io volevo un bel verde Quindi io direi Al tre di aprire gli occhi Uno Due Tre No porca vacca Che schifo Mio dio Manda andà Dai amici Fammi trovare vero No eh No Beh Che schifo Sirigu 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 è il massimo Ma ci prendiamo in giro Che palle Ma ragazzi Non è finita Perché apriremo anche un altro pacchetto In omaggio oro Che ho da 5.000 Io non trovo mai niente Ma ho visto che Dei giocatori O meglio Dei mie iscritti Hanno trovato qualcosa Appunto In questi pacchetti Dove non si trova mai niente Quindi è una cosa un po' tattica Che schifo Ovviamente Non troviamo mai niente Come al solito Comunque ragazzi Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Siamo stati inizialmente fortunati Ma poi sfortunati La grande In pratica abbiamo buttato via Ciò che avevamo guadagnato Col primo pacchetto Ma trunk Quindi ragazzi Detto questo Il video vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace E io vi dico Podenta Pala Sendo Al prossimo video Bolla Grazie.